E' Giacchino è lì che prepara il suo micidiale cocktail. Mi risi conto di essere più malvagio. Si stava gonfiando. Mi trovi a tale orrore che il suo viso diventino immediatamente nero. La ragazza si venne. Mi disse che stava lavorando a un racconto, un romanzo, in cui spunto gli era venuto proprio un sogno. Nostro marito si chiuse in camera sua. Ma come ti permette di giudicare il mio lavoro? Tre giorni e tre volte. Senza mai incirne. Ma neanche una volta. Solo con un'ennesima storia del terrore. Ma perché Aida beve l'antidoto? Eppure passerò alla storia come l'infermiera di Stevenson. Perché vuole ritornare ad essere Giacchino? Ma cosa ti è successo in quella stanza? Perché la tua faccia è così cambiata? Dentro di me avvertivo un'irrequietezza e impetuosa di cosa c'è dentro la porta. Era... Più desideri, più oscuri, profondi, inconfessanti. La mia maledizione. Io non ho mai desiderato... Di genere umano. Aprire quella porta. E ho sempre desiderato... Barcarne la storia. La mia faccia sta cambiando. Unisjevo... Unisjevo è tutto il nostro fordio.